Eccoci qui di nuovo a parlare di intonazione con alcuni aspetti un pochettino più approfonditi. Allora, il primo aspetto che volevo evidenziarvi è questo numerino, 440, 440. Questo è il punto di riferimento che noi usiamo per accordare i nostri strumenti. È un punto di riferimento variabile. In alcune parti del mondo e in alcuni gruppi si usa 440, in alcune parti del mondo e in alcuni gruppi si usa invece 442 o anche addirittura altre indicazioni numeriche. Gli accordatori, praticamente tutti, almeno quelli fisici, hanno a disposizione due tastini intitolati calib, calibrazione, che ci permettono di sistemare questo aspetto. Quindi il punto di partenza su cui andare ad accordarsi. Noi per comodità rimaniamo adesso sui 440 Hz. Quindi la nostra ancia si muove esattamente 440 volte quando abbiamo il semaforo verde. Vediamo se è vero. È vero, in questo momento la mia ancia si sta muovendo 440 volte al secondo ed è precisa. Adesso faccio un piccolo esperimento. Con il mio sax soprano appena suonato un Si, vado a suonare un Re col portavoce. Voi osservate cosa succede alla freccia. Avete visto che il Si era perfettamente centrato, semaforo verde, il Re invece era spaventosamente crescente, semaforo rosso, bocchino troppo infilato. Ma io non posso però spostare la posizione del bocchino mentre suono. Andrei a rovinare. la nota che avevo sul semaforo verde. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che alcune note del sassofono hanno una tendenza di intonazione, si dice. Cioè hanno voglia di andare in una direzione piuttosto che nell'altra direzione per motivi legati alla costruzione dello strumento, alla fisica dello strumento. Noi con queste tendenze di intonazione dobbiamo abituarci a convivere. Dobbiamo sapere, per esempio, che su tutti i sassofoni la nota Re con il portavoce tendenzialmente va da questa parte. Come facciamo ad aggiustare questa cosa? La aggiustiamo lavorando sull'imboccatura e parallelamente sull'aria. Osservate cosa succede. Io prendo questo Re e lo suono senza pensarci. Poi, mentre suono, do più aria e rilasso la mia imboccatura. Avete visto come sono riuscito a farlo scendere e a portarlo da questa posizione a una posizione più calante, parecchio calante. Ecco, fare una nota lunga con l'accordatore ci aiuta a portare la nota sulla luce verde, a portare la nota sulla cordetta in tonazione, aggiustando in automatico l'imboccatura. Vediamo se ce la faccio o se faccio una figuraccia. Dai, quasi accettabile. Avete visto come sia la nota Si del soprano sia la nota Re del soprano erano tutte e due nell'ambito della luce verde, perché mentre suonavo Re andavo a modificare leggermente la mia imboccatura. Abituatevi a fare questo tipo di lavoro qui. L'accordatore, sia oggetto fisico come questo, sia eventualmente l'applicazione sul cellulare, è molto molto utile proprio per costruire questo tipo di automatismo, di aggiustamento dell'altezza delle note con le imboccatura. Grazie, a presto!